I carabinieri del comando provinciale di Sernia hanno impiegato meno di 24 ore per risolvere due casi spinosi e complessi, partendo dall'omicidio stradale di Colli a Volturno. Nella notte gli uomini dell'arma hanno affidato al deposito giudiziario due motociclette. Una, in particolare, presentava il faro anteriore rotto e profonde abrasioni sulla fiancata, compatibili con una caduta dopo un impatto. Probabile che si tratti della moto che ha investito e ucciso Paolo Marchesani, 48enne di Colli a Volturno, ucciso mentre stava attraversando sulla statale 158 in prossimità di un distributore di carburante. I carabinieri sono risaliti al centauro grazie alle testimonianze, all'esame del sistema di videosorveglianza, all'analisi dei dati relativi alle celle telefoniche. Le due moto sequestrate sarebbero di proprietà di un uomo di Venafro e del figlio e proprio sul ragazzo, poco più che ventenne, si sono concentrate le attenzioni dei carabinieri. Omicidio stradale ed omissione di soccorso le ipotesi per cui la procura sta procedendo nei confronti del giovane. Al padre viene invece contestata l'omissione di soccorso. Intanto, nelle prossime ore, al Cardarelli di Campobasso è prevista l'autopsia sul corpo della vittima. Paolo Marchesani aveva 48 anni ed era conosciutissimo in paese. Padre di una ragazza giovanissima, dell'età del centauro, che lo ha investito. I carabinieri hanno anche identificato il pirata della strada che lo stesso giorno, a poche ore di distanza, ha gravemente ferito un anziano a Venafro in via Colonia Giulia. Si tratta di un settantenne, ex amministratore locale ma in pensione da tempo, residente in un piccolo centro alle porte di Isernia. Vistosi braccato, pare si sia costituito. Nei suoi confronti si procede per lesioni ed omissione di soccorso. Il pensionato investito, invece, è ricoverato al Cardarelli in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso, l'auto che si presume abbia investito il pedone, è stata sottoposta a sequestro. Grazie.